Ciao a tutti popolo del tubo, scusate l'interruzione sui vostri smartphone, sui vostri computer, scusate entro un attimo solo per dirvi che da oggi è attivo anche un mio secondo canale perché ormai questo canale qua si è fidealizzato su farming e simulator, sui giochi di simulazione ho visto che quando provo a parlare di qualcos'altro c'è poco riscontro e quindi gradirei, vi chiederei a tutti quelli che hanno un'altra passione come me oltre quella dell'agricoltura, di farming e simulator ma che magari amano gli anime, la Marvel, la DC Comics, i film, i fumetti, le serie tv e anche tutti gli altri videogiochi io porterò su quest'altro canale quindi mi trasferisco di là con tutto quello che non parla di farming e simulator in generale mi trasferisco di qua, quindi questo canale continuerà a parlare di farming e tutti i simulator in tutti i simulatori, mentre di là parleremo di comics, film, anime, tutti i videogiochi parleremo di tutto quello che non è farming quindi ragazzi, se qualcuno di voi è interessato a quello che io faccio oltre a farming vi aspetto, vi lascio il link in descrizione, Robbimello81Comics ovviamente i due canali avranno sempre la stessa pagina Facebook quindi su Facebook spesso vedrete anche i link di questo canale quindi ragazzi, vi aspetto salutatemi sotto i video perché come vedete ci sono già due video salutatemi, insomma fatemi sapere chi di voi da qua è passato, da là, da qua è passato là da là è passato qua, insomma fatemi, salutatemi aiutatemi a crescere, quindi magari se avete qualche amico che non ama i Robbimello, che fa farming perché non ama farming ma magari è amante dei fumetti, dei supereroi, dei telefilm e può amare insomma questo canale qua fatemi pubblicità amici, aiutatemi a crescere anche dalla parte di qua io ragazzi vi aspetto, credo in voi e ci vediamo di qua e di là ciao! ciao!